Nelle ultime ore, il calcio italiano è stato scosso da una tragica notizia. Mario Balotelli è stato travolto da un drammatico lutto. La notizia è giunta di recente alla nostra redazione, gettando nel dolore il noto calciatore. Chi è la persona scomparsa dopo l'addio doloroso a Mino Raiola poco più di un anno fa? Il suo storico manager? Ricordati di iscriverti e attivare le notifiche per non perdere i nuovi contenuti e per sostenere il nostro lavoro. Balotelli ha dovuto affrontare un altro tragico colpo, la morte della sua ex fidanzata, Caby Brown. Questa relazione, durata circa sette mesi, è stata segnata da un finale tragico. L'ex manager della giovane donna ha comunicato la terribile notizia della morte della 38enne, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Caby Brown, originaria del sud di Londra, è stata una modella di successo, apparendo su riviste come Cosmopolitan e Pley Boy. Inoltre, ha intrapreso una carriera come attrice, recitando nella serie televisiva The Bachelor di Channel 5 e prestando il suo volto a pubblicità di marchi prestigiosi come Canon, Virgin Atlantic, AXE e LYNX. La notizia della sua morte ha scioccato i fan, che hanno inondato la sua pagina Instagram con messaggi di sconforto e incredulità. Gli amici e i seguaci di Caby Brown sono sinceramente addolorati e scioccati dalla sua prematura scomparsa. Uno degli utenti ha scritto, «Sono sinceramente scioccato e rattristato che tu non ci sia più. Riposa in pace, Caby». Un altro, per onorare la sua bellezza, ha commentato, «La tua luce esteriore corrispondeva al tuo splendido interno». La notizia della morte di Caby Brown ha suscitato un profondo cordoglio tra coloro che conoscevano e ammiravano questa giovane donna.